ben trovati un nuovo appuntamento con unica talk oggi parliamo di viabilità argomento quindi caldissimo lo facciamo insieme a Mattia Micheli vicepresidente della provincia di Lecco benvenuto nei nostri studi grazie grazie mille dell'invito è un piacere averla qui viabilità e i temi insomma gli argomenti sarebbero tantissimi però vogliamo concentrarci su una novità importante riguarda la ciclabile Lecco a Badia un'opera ferma da tempo se ne parla da quasi 20 anni è stato nominato un commissario questa è una notizia assolutamente positiva ma soprattutto nei giorni scorsi la conferenza dei servizi ha dato il via libera al progetto sì è vero è un'importante notizia per il nostro territorio diciamo che segue la nomina l'altra importante notizia è stata quella della nomina del commissario per delle opere strategiche in provincia di Lecco tra queste vi è la ciclopista che andrà a congiungere il capoluogo di provincia di Lecco con a Badia L'Ariana che diciamo che è la prima che nell'iter di quelli che sono i processi diciamo decisionali per arrivare poi alla realizzazione vera e propria dell'opera ha avuto il suo benestare da parte della conferenza dei servizi benestare non scontato molto importante perché tutti gli enti preposti per dare il loro parere hanno dato l'ok e quindi il commissario ha approggiato il progetto e adesso sono pronti per portarlo portandolo in appalto per poi vedere finalmente realizzata questa opera ecco faccio una piccola cronostoria perché me ne occupo credo ormai da quando è iniziato a fare questo lavoro più o meno il primo tratto è stato realizzato la parte della passerella sospesa sull'acqua sbalzo sul lago si è fermata proprio per una questione tecnica e quindi è stato necessario riprogettare tutto ma sarà ancora una passerella sospesa? è assolutamente una passerella sospesa indipendente rispetto alla superstrada 36 ma è un'opera assolutamente che si integra molto bene con quello che è il paesaggio del lago integrata con la montagna è veramente una bella opera che avrà effetti molto positivi sul nostro territorio e che credo che lo cambi anche da un punto di vista oltre che turistico di vivibilità dello stesso perché congiungere il capoluogo di provincia a tutto il territorio del lago sarà un'opera veramente con dei risvolti assolutamente positivi quindi anche dal punto di vista turistico perché insomma avrà degli importanti risvolti io credo oltre che da un punto di vista di sicurezza perché verrà a togliere le biciclette diciamo dal tratto di SS36 tra la località Orsa Maggiore, Pradello e Abbadi Alariana quindi con dei negabili risvolti di sicurezza ma avrà anche sicuramente un impatto sul turismo noi pensiamo che quel tratto di strada potrà poi essere anche proprio chi vorrà passeggiare sul lago da Lecco per arrivare ad Abbadi Alariana magari andare anche oltre lo potrà fare e voi immaginate che vista, che paesaggi potrà godere sarà una cosa veramente bella ecco, quando la vedremo? è possibile dare una tempistica? con questo importante via libera avuto in conferenza dei servizi oggi ANAS è in grado di poter procedere con la procedazione esecutiva definitiva che credo verrà a essere realizzata nel più breve tempo possibile e poi andare alla realizzazione dell'opera questa dovrebbe essere una delle opere che entro il 2026, anno delle Olimpiadi potrà prendere la luce e quindi confidiamo e lavoriamo per questo insomma è fattibile? è assolutamente fattibile, ci sono delle ottime speranze affinché possa essere realizzata in quei tempi e poi sicuramente cambierà il volto del nostro territorio un'altra opera inserita nel pacchetto olimpico e commissariata è la Lecco Bergamo qui lo dico io, non le chiedo conferma, non le chiedo nulla lo dico io, me ne prendo la responsabilità difficilmente sarà completata entro le Olimpiadi ormai in pochi sembrano crederci al di là di questo però anche qui sono stati fatti può sembrare incredibili ma sono stati fatti passi avanti il più importante è proprio la domina del commissario sicuramente, fare delle previsioni sulla tempistica di ultimazione della Lecco Bergamo le sbaglierei di sicuro, ci crediamo ancora, lavoreremo affinché venga realizzata nel più breve tempo possibile un'opera strategica per il territorio come più di molte altre è chiaro che l'avvento del commissario perlomeno ci ha aiutato a definire le ultime criticità e a trovare anche gli aggiornamenti progettuali in funzione delle nuove normative e soprattutto, cosa non da ultimo, è una garanzia che le risorse mancanti a poterla realizzare possano essere messe in campo credo che questo indipendentemente dalla scadenza delle Olimpiadi sia una garanzia che possa essere realizzata finalmente dall'Ecco Bergamo e possa essere quindi andare a decongestionare tutto un tratto di viabilità della nostra provincia e a favorire ricchezza, a favorire percorribilità, a favorire qualità della vita per tutti quelli che la percorrono quotidianamente ma a che punto siamo? Cioè la progettazione la sta facendo ANAS? La progettazione, diciamo, da quando è intervenuto l'ente commissariale il commissario è lui che dà le indicazioni e lui che con ANAS sta interloquendo speriamo a breve, diciamo, di avere dei risvolti positivi come è stato anche per la ciclopista di Abba di Alariana con la conferenza dei servizi ad oggi i tempi però li detta chiaramente il commissario Ecco, siamo quasi in chiusura Se posso Assolutamente sì Se posso, l'argomento ciclopista l'Ecco Abba di Alariana è un argomento molto importante e va a integrarsi con un altro argomento altrettanto importante che è quello che stiamo portando avanti con la provincia con l'aiuto di tutti i comuni della sponda orientale del lago quello che riguarda la nostra provincia per completare dei tratti di ciclopista che avvengono tra Abba di Alariana e Colico Ecco sì, perché lei prima diceva una parte importante perché consentirà di raggiungere tutto il lago perché questo lavoro della ciclopista, dell'Ecco Abba di Alariana non è a sé stante Non è a sé stante È un lavoro di integrazione No, assolutamente Per una rete Assolutamente È un lavoro che stiamo portando avanti con i comuni, come dicevo che avrà della realizzazione dei tratti di ciclopista nuovi che andranno a integrarsi e la caratteristica di questo progetto che stiamo portando avanti con i comuni è quello dell'intermodalità nel senso che insieme alla fortuna che abbiamo sulla sponda orientale di poter avere anche degli altri mezzi di trasporto pubblici come la ferrovia, come anche i battelli cercheremo anche quelli di implementarli con il grande lavoro che si sta facendo in provincia c'è questa realizzazione di questi tratti tra Badia, tra Mandela e Lierna tra Avarenna, a Bellano, a Dervi, a Colico che favoriranno, oltre che l'effetto turistico la sicurezza dei ciclisti sulla strada provinciale ma soprattutto faranno un trade union quello che si diceva tra il comune e capoluogo tutta la sponda del lago fino ad arrivare a Colico e poi sempre il progetto Prezza che da Colico alla Valtellina raggiunge Bormio è un progetto nel quale teniamo tantissimo abbiamo con noi i comuni che ci stanno dando una forte mano e stanno mettendo a loro volta delle risorse oltre a quelle che abbiamo recuperato per tramite di regione e credo che sia uno dei progetti più belli da un punto di vista che unisce sia l'aspetto turistico le bellezze territoriali, la sicurezza poi delle nostre strade quindi credo che ne valga la pena poterlo rappresentare e poterlo portare avanti quindi l'idea è quella di fare in bicicletta da Lecco fino alla Valtellina fino al sentiero Valtellina l'idea è quella di congiungere Lecco con il sentiero Valtellina chiaramente non avremo la possibilità di fare tutti dei tratti a lago magari in un prossimo futuro riusciremo a fare anche quello partiremo da alcuni tratti ma con la caratteristica di intermodalità verrà data quella possibilità che dove non c'è il tratto da poter percorrere una sicurezza si può prendere il traghetto piuttosto che il battello o piuttosto che il treno Sicuramente sarà una novità molto apprezzata dal punto di vista turistico oltre al tema della sicurezza un tema che nel nostro territorio è sempre molto importante solo qualche giorno fa la morte di un ciclista a causa di una buca nell'asfalto strada statale lo ribadisco Sì, purtroppo Ecco, visto che parliamo di piste ciclopiedonali visto che parliamo di sicurezza visto che parliamo di strade mi sembra giusto sottolinearlo Sì, è un aspetto suello tragico purtroppo capitano queste cose bisogna cercare di fare il meno possibile cercare soprattutto di favorire la sicurezza come provincia stiamo facendo il massimo chiaramente partiamo da un gap infrastrutturale di risorse degli ultimi anni che non ci ha consentito di fare quello che avremmo voluto fare noi oggi siamo qui però per cercare di colmarlo e cercare di fare il meglio possibile Grazie Grazie a Mattia Michieli per essere stato ospite nei nostri studi grazie ai telespettatori che ci hanno seguito ci vediamo martedì prossimo con una nuova puntata di Unica Talk Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti